Siamo con Carlo Nordio, Sales Manager di Aruba Business. Parliamo con lei di Data Center. Come possono garantire affidabilità, sicurezza, prestazioni senza rinunciare ad un approccio ecologico? Certo. I nostri Data Center, i Data Center di Aruba, sono costruiti con la logica del Green by Design e con un approccio zero compromessi. Quindi l'utilizzo al 100% di fonti rinnovabili con garanzia di origine a livello europeo e l'adozione di soluzioni tecnologiche avanzate ci permette di poter realizzare delle infrastrutture che siano sicure, performanti e al tempo stesso sostenibili. I nostri Data Center proprietari sono riconosciuti grazie a queste caratteristiche come un'eccellenza a livello non solo italiano ma anche a livello europeo. Quindi il gruppo Aruba si colloca veramente ai vertici come un fornitore di primaria importanza in ambito europeo. A breve, inoltre, anche per essere rispondenti a quelli che sono i programmi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza verrà attivata anche una nuova infrastruttura su Roma che servirà per garantire lo sviluppo del mezzogiorno e quindi l'area del centro-sud, sempre con i medesimi criteri di sostenibilità e di qualità tecnologica. Ecco, siamo all'interno del meeting in tema di digitalizzazione e sostenibilità. Come si pone Aruba Business nell'ottica del mercato su questo grande tema che è il tema del momento? Certo, abbiamo visto che anche dagli speech eseguiti da chi ci ha preceduto il piano di ripresa deve prevedere l'unione delle competenze e delle qualità e delle eccellenze. Aruba Business si rivolge al mercato del canale, quindi ai partner che con la loro professionalità, la loro competenza, mettono a servizio delle piccole e medie imprese o comunque di tutto quanto il panorama industriale italiano dei servizi che devono però essere completati con delle soluzioni tecnologicamente avanzate. Aruba Business infatti, grazie appunto alle infrastrutture di cui parlavamo prima, vuole portare il proprio valore e assieme appunto alla rete dei partner completare l'offerta di mercato con delle soluzioni di altissimo valore tecnologico e con i massimi livelli di sostenibilità. Perfetto, grazie Carlo. Grazie a te.